Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi prenderò il posto di Elytra per spiegarvi come si installa Windows 10 sul PC. Io ci sono sempre e faccio parte della regia dietro la telecamera. Andremo ad installare Windows 10 su una pennetta USB per poi andare ad installare Windows 10 sul PC. Quindi passiamo alla procedura di installazione sulla chiavetta USB. Andiamo a inserire la chiavetta USB su un PC funzionante. Andate sul link che vi lascio in descrizione e cliccate su Scarica ora lo strumento. Una volta scaricato lo avviamo e seguiamo la procedura di installazione sulla chiavetta. Una volta terminata la procedura passiamo all'installazione di Windows 10 sul PC. Andiamo ad inserire la pennetta USB e accendiamo il PC. Per dare avvio alla procedura bisognerà entrare nel BIOS e scegliere la chiavetta come boot. Ovviamente ogni PC ha un tasto diverso. Nel nostro caso bisognerà cliccare F12. Ora scendiamo con le frecce verso il basso. Scegliamo la voce USB HDD in questo caso. Diamo l'invio. Scegliamo la lingua italiana e andiamo avanti. Scegliamo la lingua italiana e andiamo avanti. Installiamo. Se abbiamo un congelo inseriamo altrimenti dichiariamo di non averlo. Scegliamo la nostra versione di Windows e andiamo avanti. Accettiamo le condizioni. Installazione personalizzata. Scegliamo il nostro hard disk, in questo caso spazio non allocato unità 1 e lo andiamo a creare. Cliccando su nuovo, applica e andiamo avanti. In questo caso attendiamo che la procedura finisca. Ora seguiamo la procedura guidata di installazione. Poi possiamo inserire un'email, un numero di telefono oppure creare un account. O in alternativa cliccare su account offline. Inseriamo il nome di chi userà il PC. E ora non ci resta altro che installare i driver audio e video e i driver del resto della nostra componentistica e i software di utilizzo. Con questo video è tutto, grazie per averlo guardato. Se non siete iscritti vi invito a iscrivervi a questo canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi video. Ciao a tutti. Da Elytra. E da Stefania. Ciao. Ciao. Non lo vedo così, ma cerca di aprire un po' di più la bocca così. Perché non cerca poi andremo a installarla. Passiamo alla procedura. Grazie. Grazie a tutti.